Maestro, vogliamo raccontare come si sviluppano gli allenamenti qui allo Spartacus di Borgo Grappa? Sì, i ragazzi nel primo periodo quando arrivano fanno una sorta di preparazione allo sporto di combattimento, quindi noi prepariamo i ragazzi con tanta ginnastica, acrobatica, esercizi di base a corpo libero per poi passare un po' alla volta a quello che è la lotta vera e propria, che ci permette poi di confrontarci anche con ragazzi che fanno judo, che fanno lotta, che fanno MMA, e quindi noi la maggior parte facciamo, unita alla lotta olimpica, usiamo il grappling, questa altra forma di combattimento. Un pensiero sulla lotta libera? Beh, la lotta libera è uno sport completo in cui ci si diverte, c'è molta competizione e rilassa. Allena tutti i muscoli del corpo e la fisicità del corpo. È uno sport che non molti conoscono e che almeno provarlo e poi decidere se è bello. Io mi sono appassionato vedendo un incontro in televisione, penso che sia uno sport molto formativo a livello strutturale e niente, invito tutti quanti a provarlo. Chi si vuole mantenere in forma, il martedì e il giovedì abbiamo dei corsi di ginnastica a corpo libero, aperti alle signore, ma non solo, se c'è qualche signore che si vuole iscrivere è ben accetto. Anche i bambini, se volessero iscriversi in palestra, siamo disposti ad aprire corsi appositamente per loro.